Ho lavorato in un sottomarino per quasi trent'anni. Ho perso la mia famiglia per questo lavoro. Non posso farci niente. Siete licenziati. L'anno scorso ero in missione nel Mar Nero. Abbiamo trovato qualcosa. Uno dei sommergibili di Hitler è sul fondale, abbandonato. Ed è pieno d'oro. Mi servono uomini. Di quanto oro parliamo? Tanto. 182 milioni di dollari. Parti uguali. Per ciascuno. Che stai cercando? Le finestre? Non ci sono finestre. Siamo pronti. Inversione! Non mi sta bene che loro prendano quanto noi. La sua ragazza è incinta. Non preoccuparti. Torni a casa da uomo ricco. Lì è tutto buio, freddo, morto. E che succede quando il primo capisce che la sua parte diventa più grande? se sono in meno a dividere. Cinque. Quattro. Tre. Due. Le faremo fuori. Uno dopo l'altro. Non chiudere il portello! Jude Law Black Sea Da febbraio al cinema. Da febbraio al cinema.